a Cesena, al secondo posto i ginnasti romeni e le ginnaste romene a Sassari e Cesena e sul terzo gradino gli azzurri a Sassari e le azzurre nella città romagnola. Siamo già alla sintesi della gara, vediamo in azione l'azzurra di Pilato, Tiziana di Pilato impegnata nella prova delle parallele asimmetriche con Tiziana di Pilato a difendere i nostri colori Chiara Ferrazzi, Ketty Titon, Erika Sella, Miosottis Massidda, Ilenia Meneghesso e Marianna Crisci. 9,55 il punteggio per l'azzurra mentre dalla pedana delle parallele siamo passati sulla lunga pedana del volteggio per uno dei due salti della russa Nicolaieva, 9,65 per questa giovanissima ginnasta ed eccola numero uno dei nostri colori, Chiara Ferrazzi, anche lei impegnata nella prova alle parallele asimmetriche, la 18enne, non ancora 18 anni, 17 anni di Frascati, gareggia per la società ginnastica Roma e le parallele asimmetriche sono il suo terzo preferito nel quale proprio propone un'uscita originale che ora stiamo per vedere. Di difficoltà altamente superiore è riuscita l'esecuzione del difficile movimento per Chiara Ferrazzi, 9,55 il punteggio per lei complimentata dal tecnico, dall'allenatrice e dalle compagne. Ed ora sui due staggi delle parallele asimmetriche la russa Kocetova. Dina Kocetova ha ottenuto il più alto punteggio individuale nei quattro esercizi. In questo 9,75 russe e rumene, ora impegnata la Marinescu, Alexandra Marinescu alla trave, hanno dato vita soprattutto nella prima metà della competizione ad un avvincente duello, poi le russe sono riuscite a prevalere e nella gradatoria finale hanno fatto totalizzare negli esercizi liberi 189 punti e 625, le russe 192 e 775, le rumene 189 e 625, mentre le azzurre si sono fermate a 183,875. Sensibile il distacco delle azzurre, quasi 9 punti dalle russe vincitrici del confronto. Alla trave dopo la Kocetova alle parallele c'è la Romena Marinescu, per lei 9,675 il punteggio in questa prova, un leggero sbilanciamento ma al termine di una serie di combinazioni altamente difficili, quindi la buono per la difficoltà, ha praticamente annullato la sbavatura di esecuzione. Di nuovo parallele asimmetriche, la russa Korkina, la svetlana Korkina, seconda nel punteggio individuale, ma ricordiamo che il confronto non prevedeva una gradatoria individuale, ma solo una gradatoria a squadre, ripetiamo il piazzamento, prima russa, seconda Romania, a terza Italia e quindi graduatorie per le quattro specialità, alla trave, al corpo libro, al volteggio e alle parallele. 9,775 il punteggio per Svetlana Korkina, uno dei più alti punteggi ottenuti in tutta la competizione. Le russe, anche se giovanissime, hanno presentato un bagaglio tecnico e una capacità di esecuzione veramente eccezionale. Una delle migliori ginnaste romeni, Claudia Presecan, impegnata sulla grande pedana del corpo libero, 9,70 il punteggio per lei. Claudia Presecan non ha ancora 15 anni, è di Sibiu, campionessa nazionale giovanile, quindi già la promessa sulla quale si puntano attenzioni e speranze di tecnici romeni, pronta a rimpiazzare l'eco nazionale della prima squadra senior. minuscola come le compagne, Claudia Presecan, alta 1,40 m, 34 kg di peso, frutta al massimo come vedete in questo passaggio nella chiusura della diagonale, la diagonale finale, a lei favorevole rapporto peso-potenza, elastiche, le ginnaste romene dotate di una velocità di esecuzione sorprendente. Dopo la Presecan, Ketty Titon, l'azzurra di Vittorio Veneto, anche giovanissima, 15 anni, gareggia per la Spes Mestre, ha al suo attivo anche una discreta esperienza internazionale, ecco senza sbandamento la chiusura di questa serie di salti, ha preso parte ai campionati europei a squadre lo scorso anno ad Arezzo, quest'estate a Nîm ai giochi del Mediterraneo e ha contribuito al terzo posto della squadra femminile azzurra in quell'appuntamento. A Nîm, nella finale alle parallele, occupò anche la settima posizione, riuscì ad entrare in questa unica delle quattro finali di specialità, Ketty Titon. Ketty Titon in questo esercizio, 9 e 10, per lei punteggi migliori in tutto il triangolare di Cesena, 9 e 350 al volteggio, 9 e 30 alle parallele. Un errore, una caduta, hanno pregiudicato per lei il punteggio al Corvo Olivero, solo 8 e 850. Sicura, originale l'entrata alla trave di Chiara Ferrazzi. Chiara Ferrazzi si è confermata anche nel punteggio e nel piazzamento la numero uno della nostra ginnastica femminile. Per lei abbiamo visto 9 e 55 alle parallele, alla trave in questo esercizio 9 e 40, pregevole per lei anche la combinazione del movimento per la rincorsa e del salto per l'uscita finale. Ora è impegnata la Ferrazzi nelle prove di nei collegamenti. Chiara Ferrazzi ai giochi del Mediterraneo a Nimm si è piazzata al quinto posto nella graduatoria generale, anche per lei un posto sul podio, ecco qui un'incertezza, un'oscillazione leggermente fuori asse nella ricaduta dopo il salto indietro. Terza fu nella prova delle parallele, quindi un posto sul podio, come un posto sul podio per lei di altre azzurre nella graduatoria, nella classifica a squadre. N'è stata anche 25esima ai mondiali di Birmingham nell'aprile.